Buonasera commissario Buonasera signorina, mi dica Che avete fatto sti cretini? Ma che so che di una madre? Ti vuoi confessare? Che vuoi? L'ho avuto da mio suorcio questo posto Ah, quel grandissimo fascista Sei tu! Sei tu! Ma lo voglio sentire io! Sei proprio un pezzo di merda Sei impazzita? Sono io, il commissario E' successo di tutto, di tutto Avanti signorina, vengo avanti Devo denunciare mio marito Protezione ti serve La città è corrotta A Bari si sta muovendo qualcosa di grosso Tu dei poteri è un tesco magico Con Lenin ancora in vita, voglio dire, noi siamo superprotetti Questo è un commissariato signorina, non è una piscatina Se il commissario devo fare una denuncia Di che cosa vi volete annunciare? Del mio ragazzo Che l'ha fatto il suo ragazzo? Il mio ragazzo mi ha lasciato L'ha fatto violenza? No, mi ha lasciato In Alissa Dove? Per strada? No, mi ha lasciato per una russa Una russa L'ha fatto violenza? No L'ha stupato? No E che altro l'ha fatto? E che altro l'ha fatto? Violenza psicologica Tu sei sicuro di quello che stai facendo? Lo sai che questa persona è ricercata dalla polizia, dai killer? È un tiraguai Questo è un posto di polizia signorina Non è una piscatria Non è neanche un manicomio Se ne vada Viper Io non posso rifiutare la protezione Perché è un compagno Ma soprattutto perché è un anartico John A Bari sta succedendo qualcosa di grosso Lo sai o no? Bari So dov'è l'anartico Commissario Ti ho una persona di là La faccia entrare La faccia entrare La faccia entrare La faccia entrare Buonasera Il commissario? Dica Il commissario? Adesso sono io il commissario Mi dica Il commissario? Il nuovo commissario E da quando? Non si interessa da quanto Sono io il commissario No a me mi interessa Che qui la cosa è seria E mi dica a me Sono venuto a proposare la sparizione di quel ragazzo Il mio pupillo Voi non sapete niente? Ah E noi lo sappiamo già cosa fare E io voglio sapere che cazzo di fine ha fatto sto ragazzo E non che venne uscire con queste puttanate Ma lei che cosa sta trovando? La verità Di chi? Lei Jane Commissario Bisogna indagare Ma su di chi? Che non sappiamo già tutto Noi abbiamo tutte le carte in chiare Però c'è un magistrato in mezzo E le cose non possono vederle Ok? Le lo dico Come sa? Che cosa deve dire? Ci vedi al di là Mi vuole anche Fascista di merda Le reite con queste spiegazioni Che cosa c'ha da dire sul fascista? Non c'entra un cazzo di niente Anartico di merda Per il pesce Per il pesce Per il pesce Commissario No 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 Signor Commissario Mi scusi E vuole vedere Vuole vedere lei Io stavo sentendo tutto Il ragazzo che fine ha fatto Ma questo Di che cosa sta parlando? Qui è sparito un ragazzo Il mio pupino Quel pagliaccio Che cazzo state cercando? Dove lo state cercando? Non lo faccio più entrare L'ho interrogato già un'altra volta Lui non deve sapere niente di nulla Non lo faccio più entrare Ma